L'1 giugno è il giorno del grande ritorno di Max Pezzali. Esce infatti a distanza di 4 anni il nuovo album di inediti del cantautore, che ha deciso di chiamare questo nuovo progetto discografico Astronave Max. 14 tracce è un nome curioso che per Max ha diverse valenze, come ci ha spiegato lui stesso quando l'abbiamo incontrato per la presentazione dell'album. C'è una doppia implicazione, esordito Max. C'è un brano che si intitola L'astronave madre, che racconta di quello che secondo me è uno dei non luoghi più rappresentativi del nostro tempo, i centri commerciali. Dal titolo del brano deriva poi il nome dell'album, perché pensandoci bene il senso dell'astronave è proprio quello di allontanarsi dalla Terra e vedere le cose in prospettiva. E il senso di tutto l'album è proprio questo. Arrivata a 47 anni, la realtà che vedo è simile a quella che vedevo prima, ma ora ho una prospettiva diversa e riesco a comprenderne la relatività. Se c'è qualcosa che però Max proprio non tollera dei tempi attuali è l'abuso dei social network. Ho sempre amato la tecnologia e sono sempre stato attivo nel trovare una connessione tra me e il resto del mondo attraverso un computer, ci rivela. Oggi cerco di essere attivo, però mi sento un po' come il metallaro che ad un certo punto scopre che la sua band preferita l'ascoltano tutti, anche quelli che prima ascoltavano pop. Credo che l'unico modo per vivere la tecnologia sia quello di essere anche critici nei suoi confronti e capire che non tutto è figo e utile. Facebook fa letteralmente schifo, aggiunge poi Max. Non mi piace, trovo che sia un luogo in cui la gente scarica addosso agli altri le proprie frustazioni. C'è una verbosità eccessiva, paginati di robe da leggere, c'è un traffico di roba inutile. A me piace Twitter per la sua immediatezza, per la velocità. Avere posto un limite ai caratteri è la cosa più grande fatta per l'umanità. Infatti l'italiano non ama Twitter perché un italiano in 140 caratteri non è neanche uscito di casa la mattina, non ha raggiunto neanche il garage. Mi piace anche Instagram, è una foto quadrata e non devi tagliare il capello in quattro. Facebook è ormai una grande assemblea d'istituto. Grazie. 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 Grazie.